Il Triveneto è all'avanguardia nella deradicalizzazione dei detenuti di fede islamica. I numeri non sono trascurabili nemmeno in Friuli Venezia Giulia. Lo ferma un esperto del settore della sicurezza, Sergio Bianchi, direttore della fondazione Agenfor, ospite del convegno internazionale su questo tema, a San Vito al Tagliamento, dove sono stati presentati i risultati di un progetto europeo. Nel Triveneto abbiamo una sessantina di persone, di cui una quarantina sotto il radar attento della radicalizzazione all'interno del carcere. In particolare Friuli Venezia Giulia conosce questo dato? Il dato del Friuli Venezia Giulia è rilevante, anche perché abbiamo comunità dell'est europeo fortemente coinvolte nel fenomeno. I numeri sono attorno al 50% del totale del Triveneto. Si parla, dunque, di una ventina di detenuti sotto la lente dell'antiterrorismo in Friuli Venezia Giulia. Esistono tre livelli di radicalizzazione in carcere. Nei casi più gravi si procede all'espulsione, tant'è che la metà degli estremisti allontanati dal territorio nazionale è stata dietro le sbarre. In caso di impossibilità di espellere, si sperimentano tecniche di contrasto già provate con la criminalità organizzata, come la privazione della responsabilità genitoriale. Il provveditore per le carceri del Triveneto, Enrico Sbriglia, ricorda però che in molti casi ci sono problemi di altro tipo alla base di tutto. Addirittura a volte ci troviamo di fronte a persone che hanno evidenti squilibri carattere psichiatrico o che hanno grossi problemi di dipendenze o che comunque sono problematiche e che cercano di dare una patina di nobiltà alla loro sofferenza autoproclamandosi terroristi. Grazie. 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 Grazie.